Ciao a tutti amici di Sbam, io sono Cook e io sono Max. Allora stasera... Sacchi! Stasera sacchi, stasera come dice Max ha solo armi belle. Allora ragazzi stasera vi facciamo vedere un pezzo molto 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 interessante anche poco diciamo poco comune molto poco comune e intanto nel frattempo vi consigliamo di mettere il like alla pagina, like al canale e di venirci a trovare sul nostro canale di telegram se vi piace il politicamente scorretto. Bene ragazzi direi che stasera cosa vi presentiamo? Vi presentiamo dentro a questa sacca cosa c'è? Un regalo! C'è una M1 carabina invariante paracadutisti Ok ragazzi direi che è doveroso ringraziare il nostro amico Alex che ci ha permesso di avere questi pezzi qui stasera. Chamber check! Ah esatto si via caricatore scarica e quindi lo ringraziamo e anche perché diversamente dubito che Max vi avrebbe mai presentato vi avrebbe mai portato una cosa così anzi credo nessuno di noi e allora facciamo un pelino di storia e confronto abbiamo la qua abbiamo anche sempre nella sua sacca original la mezzo la la sua variante diciamo un pelino più comune quella un po da fanteria normale a vedere anche Chamber check anche di questa ok perfetto e diamo un pochino due cenni appunto sulla storia della della M1 carabina era una semplicemente un'arma una più leggera maneggevole meno costosa da produrre della M1 Garand che potesse essere impiegata da truppe e truppe soldati che non non avessero proprio bisogno di portarsi appresso un fucile a piena potenza quindi stiamo pensando ai conduttori delle jeep ai si una personal defense weapons come si chiamavano si si può dire un'arma un'arma che un'arma che appunto servisse per dare una difesa un pelino più efficace di quella data da una pistola a gente che magari non aveva bisogno necessità di avere in mano un garand allora abbiamo quindi abbiamo la variante quella normale questa è una dove c'è scritto la è una underwood questa qua underwood mentre invece questa qua è una inland questa qua è la versione quella proprio da parà tra l'altro il numero la matricola inizia per 29 e questa è una di quelle che era assegnata stando al range matricolare era assegnata alla 82esima airborne quindi con tutta probabilità quest'arma è stata una bici è molto frizzante per poterla ma poterla maneggiare è un pezzo di storia quindi vediamo appunto la differenza sta appunto che essendo un'arma destinata ai alle truppe paracadutiste ha la particolarità del calcio scheletrato e abbattibile quindi è un side folder per ridurre per ridurre l'ingombro durante il lancio che semplicemente facendo forza si andava a chiudere quindi durante il lancio si teneva così si arrivava a terra si apriva e dopo funzionava come un normalissimo calcio tra l'altro grazie al fatto che quest'arma ha un rinculo decisamente inesistente anche usarla con un calciolo metallico allo sparo la rende comunque estremamente piacevole da usare si era comunque fornita del suo poggia guancia si si era su questo bellissimo questo bellissimo poggia guancia in pelle che la rende proprio molto fine è un molto molto bello come 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 calcio tra l'altro appunto sparando appunto una cartuccia molto molto poco rinculante avendo un rinculo nullo anche con anche col calciolo anche col calcio scheletrato è abbastanza godibile allo sparo a differenza di magari certi a k in in 762 per 39 che con lo scheletrato diventano dei bei pugni dei bei pugni si non sono proprio piacevoli al ma parliamo appunto max parla un pochino parlaci un pochino della meccanica di questa arma vai max parlaci della meccanica allora meccanicamente le armi sono praticamente identiche abbiamo una una carabina a recupero di gas che dopo mostreremo bene anche sotto se riusciamo a smontarlo perché c'è da svitare qua con un pistone a corsa corta che va a sbattere e al momento dello sparo contro l'op rod che fa retrocedere il tutto girando l'otturatore a due tenoni praticamente uguale si da quel punto di vista lì è un garan miniaturizzato da due tenoni non è il tenone di sicurezza dietro semplicemente quei due lì ma tanto per tenere il 30 m la la potenza del 30 m 1 era più che sufficiente che serbatoio da 15 cartucce molto pratico da inserire va dritto giù dai ecco come si nota non ha l'hold open l'hold open è dato da questa spina a mano si l'hold open lo inserisci lo inserisci tu se lo vuoi inserire a mano perché tanto non era pensata per essere ricaricata la strina ma solo col caricatore si in vista abbiamo l'estrattore che sembra davvero uguale a quello del garand si è abbastanza simile e l'estrattore qua sotto identico si si concettualmente molto simile al garand che è anche qua per sganciare l'hold open fatto togliamo di nuovo vediamo che essendo una delle delle prime non ha l'attacco della baionetta quindi è proprio l'attacco della baionetta fu messo in seguito a partire dal 44 45 leggo canna general motors si esatto esatto questo perché la inland faceva fare le canne alla general motors è ovviamente marcata in puro stile americano col mese anno 9 43 per il resto per il resto cosa tracchi di mira abbiamo attacca frontale fissa attacca frontale fissa attacca posteriore regolabile al massimo regolabile in deriva e regolabile nelle varie altezze giusto movimentandola semplicemente spingendola avanti indietro quindi comunque per me per quanto sia sempre una una meccanica semplice una mira destinata a un'arma semplice permetteva comunque un sacco di possibilità di regolazione riusci a leggere i numeri si va da 100 200 250 300 quindi si è regolata fino a 300 metri e del resto è un'arma destinata a un impiego a distanza è molto ravvicinate quindi si molto pratico l'ingaggio anzi fammi vedere meglio perché forse ho detto una chazzata no io leggo si no 100 ah c'è anche 1 e 5 vedi c'è anche c'è anche da questa parte c'è anche 1 e 5 quindi c'è anche una cosa intermedio e come si mette no vedi ma c'è 1 e 5 si dai 100 150 perché si è sull'altro lato ah sì sì però una super finezza gli americani mentre questo modello aveva il calcio fisso questo aveva un calcio pieghevole che semplicemente non ha blocchi perni qualcosa da premere semplicemente si apre si chiude fine si questo pezzo infusione si si un bellissimo pezzo infusione si vede anche questo anche questo è marcato c'ha le sue le sue stampigliature anche il cuoio è marcato si si ma tutto marcato che bello e che dire allora direi che poi abbiamo facciamo vedere anche meglio le sue questa qua è la sua sacca la sacca cosciale questo che ce l'abbiamo la facciamo vedere al fianco e alla cintura quindi e permetteva di contenere l'arma la sua interezza nel momento che era piegata calcio abbattuto anche questa chiaramente invece è la sacca di trasporto di quelle della da mezzo da mezzo da willis come ci riferiscono quindi andava tenuta nel lato del conducente anche questa tacche di mira sono queste sono leggermente diverse si è fatta un po diversa ma quello che credo che anche cambiasse un po dall'anno e dal produttore sicuramente dal produttore anche perché qua l'anno è lo stesso sempre 43 sempre 43 invece questa qua è underwood quindi probabilmente adottava semplicemente una soluzione diversa si muove per scatto si dice 100 200 anche questo c'è il 250 gli piaceva il 250 si vede che era distanza critica e si arriva a 300 si parla di essendo americani si parla di yard ovviamente bellissimo bo allora direi che a questo punto abbiamo abbiamo detto abbiamo una particolarità l'oliatore qua era contenuto incastrato qua nel calciolo pieghevole qua invece funge da fermo per la cinghia intelligentissimo e allora dai max visto che comunque questa qua si può dire allora un pochino di storia questa qua era il tuo sogno quando ti sei avvicinato al mondo delle armi si storia di sbam questa sarebbe dovuta essere la mia prima arma che poi avrei preso questa mettendoci poi la calciatura parampampero ruscata una replica trovata in giro purtroppo i prezzi erano inaccessibili ripiegati su altro però sì questo era il sogno all'inizio una carabina piccola cartuccia abbastanza dignitosamente potente ma soprattutto un'arma compatta e leggerina perché effettivamente dai dai tu un parere da tiratore da imbracciata proprio proprio bello ma soprattutto questa è fatta era pensata da rapinator da no da hey team beh questa è veramente veramente bella veramente bella ed è un pezzo che effettivamente si vede molto poco e poi appunto abbiamo anche anche questa qua poi devo dire che se anche questa non pensa molto di più è veramente è veramente di una leggerezza e di una maneggevolezza disarmante mettiamo 100 bella 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 adesso parliamo di un'altra cosa disarmante parliamo di prezzi è giusto allora parliamo appunto innanzitutto del calibro prima di parlare dell'argomento brutto parliamo del calibro anche questo potrebbe essere un argomento un po' il calibro era il 30 m1 quindi praticamente è un po' come se fosse come mi piace definirlo a me è il 32 cp magnum perché praticamente palla in 300 o palla diametro 308 peso dal peso di 110 grani conteneva si conteneva una dose di una si parla di una decina 10 12 grani di polvere h ogdon 110 oltreoceano noi la ricarichiamo con la n 110 che appunto la polvere dell'azione per questo genere di cartuccia quindi è che era la polvere destinata ai caricamenti magnum quindi si può dire che è un 32 acp magnum quindi un pochino più più performante infatti come potenza siamo simili al 357 come potenza sì a livello di potenza e potere lesivo siamo siamo circa lì e poi a questo punto calibro l'abbiamo detto a questo punto max tocca parlare della cosa che più ti piace ovvero i prezzi parliamo di prezzi e premettiamo che questi sono due modelli abbastanza rari particolari con il valore storico quindi purtroppo sì perché questa appunto è una questa qua è proprio originale americana quindi chiaramente aspettatevi di trovarla con la flaming bomb aspettatevi di trovarla a prezzi se volete un se pensate di comprarvi un oggetto così spenderete più dei 500 600 euro che trovate di solito per le riarsenalizzate austriache queste dopo la guerra moltissime furono impiegate dalla guardia di frontiera austriaca che le riarsenalizzò ci fece qualche cambiamento e quindi sicuramente sono molto meno interessanti rispetto a una cosa così che è una americana in condizioni in condizioni originali in tutto e per tutto quindi questo è sicuramente un pezzo a livello collezionistico molto più molto più importante tra l'altro siamo sopra i 1000 euro su questa questa ci avviciniamo i 1000 euro secondo me mentre invece con questa li superiamo a treno proprio perché effettivamente ce ne sono veramente poche originali quindi viaggiamo sui 900 e sui 900, 1000, 1200 e 1500 ma anche piene pieni e proprio completi e tra l'altro oltre agli austriaci le usiamo anche noi poi la M1 carabina molti dei nostri follower un pelino più anziani che hanno fatto la naia nei carabinieri si ricorderanno sicuramente i servizi allo stadio con la M1 carabina anzi con i calci molto spesso con solo i calci della M1 carabina che li andavano a tirare addosso agli elementi un pochino più problematici della curva ok allora ragazzi direi che calibro abbiamo detto prezzi li abbiamo detti abbiamo fatto la nostra valutazione soggettiva di Max e che dire speriamo soprattutto questa di coronare il sogno di Max e provarla al poligono a fuoco prima possibile ringraziamo di nuovo il nostro amico Alex che ci ha gentilmente concesso queste due armi per la nostra recensione e ci diamo il arrivederci alla prova sul campo direi bene da Cook e da Max è tutto